Ho usato molti miei limiti per riuscire a tirare fuori anche dei suoni particolari quindi ho proprio utilizzato non tanto le mie capacità ma soprattutto i limiti ad esempio le batterie di questo disco, ci sono le batterie non essendo un batterista io, non essendo un gran batterista cosa ho fatto? Ho suonato alcune batterie molto semplici, sono tutte molto semplici in altri casi ho campionato delle vecchie batterie elettroniche quelle di legno degli anni 70, quei tempini già fatti, quelle lì tutte campionate spezzettate e poi ho suonato sopra la batteria vera, quelle finte ho fatto un po' dei Frankenstein di batteria e questo mi è venuto proprio per via dei miei limiti Rock TV in onda su Sky, canale 718 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash rock tv slash live